L'Angelana dice addio alla Serie D e lo fa con tanto. Amaro in bocca, non basta la vittoria per 2-1 sul Francavilla nel match di ritorno della semifinale play-off di eccellenza dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata. L'ammarico legato soprattutto al fallo da rigore di Barbini al 34esimo che ha lasciato l'Angelana in 10 per un'ora e permesso al Francavilla di firmare l'1-1 proprio quando la remuntada sembrava tutt'altro che impossibile. Sì perché la partenza è tutta di marca Angelana con 20 anni che dopo 2 minuti costringe Spacca al miracolo su punizione. Al secondo affondo l'Angelana passa quando Fondi cerca e trova Polidori, controllo e dribbling spalla alla porta e diagonale che vale l'1-0. La replica del Francavilla schierato da Montani con un 4-3-3 con Spacca in porta di Sabatino, Di Dallo, Borghette e Di Pietrantonio in difesa, Milizia di Giovanni e Petroni in mediana con Rodia, Gallia e Micichè in avanti e affidata all'incornata di Di Dallo al minuto 16 sull'angolo di Micichè. E al destro da fuori di Di Sabatino al ventesimo. L'Angelana però pur priva di Silveri e Catani schierata da Crivelli, squalificata e costretta a seguire la gara da sopra la panchina con un 4-3-1-2 con Rossi in porta, Barbini, Taccucci, Melillo e Galassi nel reparto arretrato. Licastro, Bernicchi e Fondi a centrocampo con Ventalni alle spalle del duo Polidori, pica, fa la partita. Al ventitresimo così no look Li Bernicchi per vent'anni imbucata da applausi per Polidori che viene chiuso al momento della battuta a rete e chiede un rigore. Troppo Polidori non ci sta e dopo un giro di lancette si invola sulla destra con Di Lallo provvidenziale nel salvare i suoi. Poi al trentatreesimo l'episodio che cambia la partita. Cambio di campo di milizia, Barbini sbaglia il tempo dell'intervento, Micichè ne approfitta e entra in area. Barbini lo mette giù, rosso diretto e rigore. Dagli undici metri Galli non sbaglia ed è uno a uno. Con l'uomo in meno all'Angelana serve più di un'impresa. Crivelli pesca subito in panchina fuori di Castro dentro Guzzoni e proprio sul cross dalla destra di Guzzoni, pica trova la torre sul secondo palo per Fondi che non inquadra però lo specchio. Nella ripresa Crivelli inserisce subito Donofrio per pica ma giallorossi con l'uomo in meno non ne hanno più. Il Francavilla così si rende pericoloso con Rossi costretto ad inventarsi portiere volante. Il numero uno Angelano ha il suo da fare prima con Galli, poi con Micichè. Con il portiere Angelano che risponde sempre presente sul destro del fantasista abruzzese, lo stesso Micichè al cinquantaseiesimo si procura anche un rigore quando supera Melillo che lo mette giù in area. Dagli undici metri però stavolta non va Galli ma lo stesso Micichè che calcia alto. L'Angelana si vede al sessantaseiesimo con una punizione di vent'anni, respinta di spalla, poi complice anche il gran caldo e il ritmo si abbassa e via la girandola di cambi. Con Bococo per Melillo nell'Angelana e Sardelli per Micichè nel Francavilla. Proprio Sardella in contropiede sull'assist del portiere Spacca trova ancora una volta a sbarragli e la strada al minuto 73 Rossi. Sardella ci riprova all'ottantaduesimo ma Rossi c'è ancora. Prima del triplice fischio c'è tempo per il raddoppio dell'Angelana che arriva all'ottantaseiesimo quando Bernicchi su punizione trova Fondi, incornata, botta sicura, spacca e spinge sulla ribattuta. Guzzoni viene messo giù, rigore che vent'anni trasforma per il 2-1 finale che fa uscire tra gli applausi i giocatori dell'Angelana ma lancia il Francavilla nella finale che vale la Serie D dove troverà da avversari i marchigiani del Fabriano Cerreto. Simone Tarpanelli si era messo anche il vestito buono per la rincorsa alla Serie D, non battute a parte con i secondi massi va poco lontano ma senza quello rosso a Barbini dopo 34 minuti? Senza il rosso a Barbini dopo 34 minuti sono sicuro quello che pensavamo prima e tutta la settimana che l'Angelana passava il turno. Era una squadra, i ragazzi erano motivati, hanno fatto quello che loro credevano nei primi 30 minuti dimostrando veramente di essere superiori al Francavilla oltre, ma questo io non c'era la partita di andata, me l'hanno detto in settimana, me l'hanno ripetuto che loro credevano in questo passaggio del turno. Purtroppo è venuto l'episodio sull'1-0 e lì credo che sia finita la partita. Guardando avanti ora al prossimo anno? Il prossimo anno come tutti gli anni, noi è una società impostata, una società che ha formato un gruppo di ragazzi che crediamo nelle loro qualità, non so adesso che faremo dal punto di vista tecnico. La certezza però c'è, Sandro Grivelli non allenerà l'Angelana, magari un grazie a lui anche per quello che ha fatto dopo il suo arrivo. Guarda, io per il mister, lui è un ringraziamento particolare da parte di tutta la società, glielo faremo e va fatto. Io lo ringrazio personalmente perché per me è un padre, con lui vivo dei ricordi da anni, prima con mio padre, poi io ero suo calciatore. Quindi gli abbiamo chiesto quel favore andando quel lunedì pomeriggio a casa sua e a lui ha risposto alla grande. Ci ha preso per mano, come ho detto più volte, ha preso per mano la squadra, la nostra società e ci ha portato ai risultati che per noi, al di là della sconfitta oggi, del non passaggio del turno, non è un danno assolutamente ma è un'esperienza, la prendiamo con un'esperienza, un'esperienza di crescita, non è una sconfitta ma una vittoria, una vittoria perché abbiamo dimostrato che con il lavoro del settore giovanile abbiamo portato tanti ragazzi in prima squadra e se l'hanno giocata sia a Francavilla che oggi alla pari con squadre di fuori regione all'altezza che magari hanno dei budget diversamente dai nostri. Se lo chiedono tutti in Umbria un'ulteriore conferma, non ci sarà domanda di ripescaggio da parte dell'Angela? Noi l'avevo anticipato, ne abbiamo parlato poi dopo la vittoria con il Ventinella, domanda di ripescaggio non ne faremo e non ne facciamo. Se le vittorie vengono sul campo noi ci ragioniamo e sicuramente se veniva sul campo non è che ci terremo indietro per farla perché siamo anche impostati, adesso siamo anche un po' presuntuosi, posso essere presuntuosi ma un giro di società impostate e organizzate come le nostre credo ce ne siano poche. Quindi noi se veniva sul campo la facciamo tranquillamente. Non è venuta e ti dico che continua il nostro lavoro di organizzazione della struttura, il lavoro di crescita di quello che è la società, quello che sarà il tasso tecnico, scegliendo un allenatore che sposi quello che è la filosofia della società, che sia un allenatore, è uno dei nostri, uno dei nostri che farà parte di un'organizzazione, di un'area tecnica che avrà in primis la persona di Sandro Crivelli che è come il nuovo direttore tecnico che poi valuteremo in consiglio, ma la situazione del mister sarà questa, già sta lavorando per il settore giovanile insieme ai responsabili, a Scopetti, a Paola, a Maccabei. Quindi lui è l'allenatore tecnico. Te la sei cercata, allenatore invece? Allenatore non lo sappiamo, l'allenatore sicuramente sarà la figura più difficile da scegliere, non perché non ci siano bravi ma perché dopo tre mesi fatti così, avendo ricreato un gruppo, avendo ricreato una squadra che tutti, compreso la stampa, la davano per morta, perché alla fine del, penso che noi a gennaio eravamo a sette punti fuori dai play-off e a undici dalla seconda. Ha fatto una rincorsa che io credevo, perché ho sempre detto, e tu sei testimone delle qualità che vedevo in allenamento, che poteva mancare solo un piccolo aggiustamento perché questa squadra venisse fuori. Quindi ti dico, deve essere una persona che conosca bene l'Angelana, una persona dell'Angelana. Tommaso Guazzolini può essere un nome? Tommaso Guazzolini può essere un nome, come può essere un nome Andrea Risalelli, come può essere un nome, adesso chi ce n'è libero non mi ricordo, però come tutti noi faremo dei colloqui, ragioneremo un pochino con tutti, però deve avere un profilo che è da Angelana. Se qui gli allenatori vengono che sono un pochino permalosi oppure hanno altre ambizioni non è la società giusta.